benvenuto il sito blog che si occupa di insegnarti a non scomunicare e come ti dice la frase più importante quando è l'above the fold basta per tre tempo e denaro con costosi corsi online lezioni con il tuo insegnante privato e a schermo condiviso oggi per proseguire con il mio corso wordpress per imbranate ma non vuole offendere nessuno è solo come mi sentivo io all'inizio della mia carriera online quando a 50 anni ora ne ho 56 mi avvicinai per la prima volta all'online mi sentivo veramente imbranato l'arrivo e per imparare arrivare all'online mi sembrava dall'altra parte di una catena montosa gigantesca e davanti a me vedevo proprio un everest ma non un everest estivo da scavalcare un everest veramente da scavallare in versione invernale nell'inverno più freddo che si è mai esistito per proseguire con questo piccolo corso online gratuito che fa parte della serie wordpress per imbranati ok oggi parleremo dell'acquisto del tuo dominio e del tuo spazio web scendiamo direttamente in argomento ok il mio blog ci sono 78 articoli ad oggi anche tecnici per imparare a lavorare online dunque se ti interessano questi argomenti ti consiglio di andare a dargli un'occhiata perché si integra perfettamente con il mio canale youtube dove stai trovando queste registrazioni io uso due tipi di hosting e li consiglio tra quelli popolari tra quelli con un bellissimo rapporto qualità prezzo le prestazioni li consiglio a tutti i miei clienti da me i studenti a volte sono pazienti talmente malati di anti online ok che hanno il ruolo di paziente più che di studenti il primo e storico servizio di hosting che mi vedi anche pubblicizzare con un banner sul mio sito te lo faccio vedere ok vai qui sul blog e questo è il banner in affiliazione di pubblicità di site ground per cui lo puoi acquistare da lì site ground perché site ground perché prima di tutto è veramente proviamo a cliccare acquista come anche bluost di cui parti parlo dopo è veramente con un prezzo speciale e con delle caratteristiche decisamente importanti vediamola dunque per un sito vai a spendere circa 87 euro iva compresa ok ai 10 gigabyte di spazio se hai intenzione di fare più siti ti consiglio di prendere questo dovrebbe ecco il grow big ok è adatto fino a 10 mille euro visite mensili ok il dominio è compreso nel prezzo il ssl è gratuito e compreso se non sai cos'è l'SSL guarda lo vedi questo piccolo lucchetto questa è la sicurezza che google vuole e con altre che google vuole e che praticamente è anche un fattore seo perché avere il sito con l'SSL gratis compreso significa avere un sito che google considera sicuro e che dunque fa vedere volentieri e tende ad alzarlo ok è un fattore di ranking veramente di cui non puoi fare a meno adesso andremo anche a vedere come si fa l'acquisto ok come vedi la prima cosa ti chiede di scegliere il dominio poi l'altro host che ti consiglio è blu host ok lo puoi tradurre anche in italiano ok e questo costa anche un pochino un pochino di meno ok ma io te li consiglio te li consiglio entrambi il punto di forza di side ground fammi tornare leggermente indietro ok lo vedi questo punto dove c'è scritto aiuto il supporto in italiano via chat è veramente fantastico ok 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 le caratteristiche ok di blu host è un pochino più performante ma non ha anche costa leggermente di meno però ti chiede un abbonamento di 36 mesi ok siamo lì come caratteristiche te li consiglio te li consiglio veramente entrambi io con entrambi mi trovo da dio però se devi se non parli l'inglese e hai bisogno a volte di un aiuto in italiano puoi chiedere o a me ma qui in side ground hai un supporto veramente veramente performante e fantastico ti ripeto anche se li cerchi di notte ok andiamo quindi insieme ti recchi qui site ground punto com ok e poi se hai intenzione di fare più siti ti consiglio di acquistare questo ok se invece ne vuoi fare uno solo in partenza e considera la tua palestra di allenamento puoi acquistare decisamente da qua ti lascio il link per arrivare sul site ground qui nella descrizione del video clicchiamo acquista e troviamoci qui vai a scegliere veramente il piano l'abbiamo già scelto adesso andiamo a scegliere il dominio registra un nuovo dominio ti faccio notare che puoi anche portarne cliccando qua uno già esistente ok per cui la registrazione del dominio è gratuita per un anno e dal secondo anno se l'avrai a 12,95 euro iva esclusa dunque devi aggiungere l'iva ok come vedi ti propone di default il punto it come ti ho detto nel video precedente io ti consiglio o il punto it o il punto com e andiamo a scegliere abbiamo detto ok che vogliamo scegliere un sito dal nome molto semplice ma io oggi io oggi non ho tempo per questo dunque te lo faccio proprio da esempio text 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 word text wordpress se ci viene in contro ok andiamo a vedere ok come vedi wordpress non lo accetta dobbiamo cambiarlo procedi ce lo prende però come vedi sono molto onesti ti dicono il nome di dominio scelto non è disponibile ti proviamo di provare o con un altro dominio o con un altra estensione qui ce l'abbiamo text word punto it è disponibile e prendiamo quello procediamo ecco ora io non acquisterò un altro vedi la spesa che tu hai iva compresa al 22 per cento è di 87,69 euro non farò un altro acquisto per i prossimi passi qui vai a indicare la tua mail ok la password e la vai a confermare questi sono i dati del tuo account site ground ok quando verrà dovrai venire impostare qualcosa sul tuo account site ground dovrai registrarti la mail con cui hai fatto questo acquisto password password ok e lui ti indica quando è sicura per la password ok devi usare qualche lettera dei numeri e anche un simbolo per renderla perfettamente sicura ok la nazione italia qui vai a mettere la tua provincia io metto dove è brescia eccolo qua brescia il nome mio il mio cognome l'azienda che rappresenti la partita iva se ce l'hai tutti i tuoi dati la città l'indirizzo l'eno nel mio caso il tuo codice di affacciamento postale il tuo numero di telefono di contatto informazioni di registrazione del dominio ok qua non te ne può fregare di meno lascia tutto così com'è informazioni sulla privacy lascia così com'è metti il tuo numero di carta di credito metti tutti i dati fallo sempre di nascosto senza qua va tutto bene ok non aggiungere nient'altro di site ground site scanner non te ne può fregare di meno spunti qui spunti qui e procedi all'acquisto come vedi adesso ci troviamo dentro c'è qualche piccolo passaggio per andare praticamente ad arrivare alla bacheca di wordpress e sulla bacheca di wordpress per costruire il suo sito ci vediamo nel prossimo video per quanto riguarda bluehost l'acquisto è perfettamente semplificato e molto intuitivo come nel caso di site ground per cui io per oggi mi fermerei qua ti ringrazio dell'attenzione mi raccomando iscriviti al canale guarda tutta la playlist se ti interessa clicca la campanellina per essere avvertito delle prossime uscite perché arriveremo a fare un sito veramente completo guidato passo passo perfetto ti saluto sto registrando che è sabato ti auguro un buon weekend un abbraccio forte forte a tito maianti scomunicare alla tua indipendenza online ciao ciao ciao